Non siamo esclusivamente degli psicoterapeuti omosessuali, ma siamo degli psicoterapeuti innanzitutto che nel mondo della psicoterapia hanno fatto una scelta molto precisa, che è la scelta legata alla psicologia umanista e che si fonda sul principio del rispetto profondo del cliente e della impossibilità del terapeuta a esercitare un progetto sul cliente. È il cliente che nel cammino e nel percorso della terapia definisce se stesso e i propri obiettivi. Allora, proprio per questo motivo il nostro essere omosessuale ci permette ancor più di aver chiaro che non esiste un'omosessualità, ma esistono mille omosessualità. Ancor più ci permette di aver chiaro che realizzare se stessi è un lavoro complesso, è un modo di stare al mondo. Quello che ci proponiamo di fare nel lavoro con gli omosessuali di cui condividiamo le fatiche, la contraddittorietà, le energie belle, le esperienze molto affascinanti è proprio questa dimensione del rispetto e della costruzione della originalità di ciascuno nella specificità omosessuale.